Parliamo ora di accorgimenti per poter rendere un alimento più sano ed equilibrato. Ce ne sono. Ne parliamo con le dottoresse dietiste. Iniziamo con la dottoressa Morena Girardelli. Ecco, sappiamo che uno degli accorgimenti può essere costituito dalle spezie che possono sostituire condimenti che possono nuocere alla salute. Parliamo dell'utilizzo di queste spezie, dottoressa. Effettivamente le spezie sono importanti per ridurre i condimenti sia riferibili all'uso di olio o di burro ma anche e soprattutto per ridurre i condimenti contenenti sale. Abbiamo visto, ne accennava la dottoressa Moretti, che è importante controllare il discorso dell'ipertensione e sappiamo quanto il sale incide su questo. Bene, parlando di piante aromatiche, dobbiamo dire che la caratteristica di queste piante è il contenuto in oli essenziali. Abbiamo presente, bene o male tutti, come nella fitoterapia si utilizzano appunto piante proprio per il contenuto in specifici oli con proprietà particolari e interessanti sul funzionamento di vari organi. In particolare le piante aromatiche vengono utilizzate per esaltare e a volte addirittura migliorare il sapore del cibo a cui sono associate. Molte sono le erbe aromatiche di uso comune, pensiamo al basilico, il prezzemolo, il rosmarino, l'alloro, quindi molto conosciute anche da noi. Molto meno conosciute invece sono le spezie. Le spezie possono essere varie parti delle piante, mentre le erbe appunto si riferiscono a foglie, germogli o steli delle piante, le spezie possono essere i semi delle piante, pensiamo ai semi di papavero, di finocchio, cardamomo, il coriandolo, oppure i frutti o le bacche, per esempio il ginepro, l'anice stellato, il peperoncino, anche un frutto, oppure i pistilli delle piante, pensiamo allo zafferano, o i baccelli, la vaniglia, o addirittura la radice, come lo zenzero, o la corteccia, come la cannella. Il curry, che così rappresenta un po' l'icona delle spezie, in realtà è un mix di spezie a composizione variabile a seconda dei paesi in cui viene utilizzato, solitamente comprende, oltre al curry, peperoncino, cardamomo, zenzero, fieno greco ed altre piante. Diciamo che tutte le spezie possono essere ridotte in polvere, ma ovviamente l'ideale, l'utilizzo migliore, sarebbe quello di frantumarle, grattugiarle o macinarle al momento dell'uso. E con l'accortezza assolutamente necessaria di aggiungerle al cibo verso fine cottura, addirittura gli ultimi minuti o secondi, proprio perché, altrimenti, gli oli essenziali andrebbero dispersi a causa del calore. Diciamo che appunto nella nostra cultura gastronomica sono molto diffuse le erbe aromatiche, cioè o nell'orto o addirittura in terrazza abbiamo tutte le piantine di basilico, di prezzemolo, eccetera, o rosmarino, mentre le spezie, forse perché rievocano paesi lontani, sono meno conosciute. Ma in realtà, nonostante questo, e comunque nonostante l'origine sia effettivamente lontana dal nostro paese, da parecchi anni le troviamo anche nei supermercati, sugli scaffali, nei caratteristici vasetti di vetro. Quindi non è poi così difficile reperirle, si tratta solamente di voler provare con fantasia e creatività a sperimentare nuove preparazioni gastronomiche, quindi aprirsi verso nuovi sapori, che vuol dire anche aprirsi a nuove culture. Grazie dunque alla dottoressa Girardelli. E ora altre interviste, vediamo come si comportano i trentini a tavola. A pranzo mangia primo e secondo o uno l'altro? No, io di solito a pranzo sono fuori per lavoro, mangio un paio di panini, a volte un primo solo, ecco, o solo primo, se no se sono fuori un panino o due. Adesso facciamo il primo o il secondo, di solito a mezzogiorno si mangia il primo, e la sera, ma non per risparmiare cose, proprio perché esigenze per l'età. No, io se faccio il primo, cioè primo la verdura e la frutta, oppure secondo frutta e verdura. Alla sera no, alla sera poco, più che un secondo non mangio. Tendo a far sì, anche se sono da sola, tendo a cucinare completamente, cioè non posso rinunciare alla pasta, piuttosto rinuncio alla carne, però sì, mi cucino un pasto completo. No, alterno. Mezzogiorno il primo, la sera il secondo. Solitamente mia mamma fa un primo o un secondo. A mezzogiorno si fa il primo, il secondo è verdura e la cena, invece è solo un secondo, carne o pesce e verdura cotta. Primo e secondo, spesso. La verdura a pranzo o a cena? La cena, io ne mangio poca verdura, solo d'estate. C'è cotta che è cruda. C'è quella, sì, magari la pasta e un po' di verdura, la bistecca o quello che si mangia con un po' di verdura cotta o cruda. C'è sempre, in genere cruda a mezzogiorno e cotta alla sera. Verdura, sì, verdura cotta. Sempre a tutti e due i pasti? Cruda a mezzogiorno e un misto di verdura, non soltanto una qualità. Sempre e sempre, verdura e pasta è essenziale per la mia alimentazione. La verdura sempre, giorno a mezzogiorno e sera. Sì, sempre, non manca mai quella. Più cruda, più cruda, tanta insalata mista cruda comunque, nel specifico. Dottoressa Ziviani, parliamo ora di altri accorgimenti per una alimentazione sempre più sana ed equilibrata. Sappiamo che ci sono anche delle modalità di cottura da rispettare perché i cibi siano sani. Beh, sì, infatti sono domande che ci pongono sempre quando noi facciamo ambulatorio. Perché effettivamente la cottura è sempre una cosa molto particolare, specialmente per quanto riguarda le verdure. Perché durante la cottura delle verdure ci sono molte perdite, specialmente in vitamine e sali minerali. In effetti la cottura migliore, specialmente per quanto riguarda le verdure, è la cottura a vapore. Perché la cottura a vapore ha meno perdita, in quanto si pone pochissima acqua nella pentola e poi si mette il cestello, poi si pongono le verdure che in questa occasione, mi piace dire che le verdure dovrebbero essere sempre di stagione e cotte al dente perché in questo modo la verdura ha meno perdita vitaminica e il coperchio deve essere sempre chiuso. Poi c'è anche da dire una cosa, che se facciamo la cottura anche in pentola a pressione, essendo che il tempo è proprio minimo, si ha ancora meno perdita, specialmente della vitamina C. C'è veramente una perdita eclattante in vitamina C fra la cottura a vapore e la cottura in molta acqua. Se noi vogliamo fare un buon brodo per quanto riguarda la carne, la cottura delle carni, diciamo, bisogna mettere la carne in acqua fredda. Se invece vogliamo fare una buona carne, dobbiamo mettere la carne, porre la carne in acqua che bolle. I grassi da utilizzare sono sempre un'unica tipologia di olio, l'olio estravergine d'oliva. Ricordatevi che l'olio estravergine d'oliva, specialmente a macinazione a freddo, è il migliore in assoluto, sia per la combinazione di acido oleico e linoleico, perché è ricchissimo di vitamina E, e poi è ricordatevi che è un olio naturale. Un'ultima domanda, ma brevissima la risposta alla dottoressa Moretti. Ogni tanto si può fare un'eccezione, fare qualche, diciamo, concedersi qualche capriccio? Sì, l'ha detto lei, un'eccezione. Deve essere un'eccezione? Un'eccezione. Va bene, grazie, grazie dunque alla dottoressa Anna Maria Moretti del Servizio Educazione e la Salute dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, grazie alle dottoresse Morena Girardelli e Patrizia Ziviani del Servizio Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Unità Operativa di Medicina dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto. Prevenzione e salute termina qui per questa puntata. Ci rivediamo, come sempre, la prossima settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.